E' questo cane? Oh, santo cielo! Le dollari compense! La ringrazio tantissimo! Come vanno gli affari con i rapimenti dei cani? Un cane nuovo? Dove lo stavi portando, Charest? Ho sempre amato Bonnie come se fosse mio figlio! Prima non voglio avere quell'immagine Nella mia testa, secondo, potresti andare a riprendermi il mio cane? Ehi, che diavolo è successo? Dei teppisti ci hanno aggredito! E voi chi siete? Hanno detto che stavano cercando uno scizzo! E poi un altro balordo ha ucciso quelli di prima! Quello è il loro sangue! E quello è il suo vomito! Vogliamo andare al bagno a lavar via un po' di quel sangue e il vomito? Sì! Mi hanno quasi ucciso perché hai rapito il cane sbagliato! Ma dici sul serio! Wow! Che facciamo? Potremmo affrontare tutti i cattivi, magari nel deserto! Cosa pensi che dovremmo fare nella vita reale? Come va? Come ti chiami? Sta zitto! Ti riporteremo da paparino fra un paio di giorni, non essere triste! Zampa? Zampa? Niente zampa? Va bene lo stesso! Devo controllarmi, lo so, ma il mio cagnolino finirà con ucciderlo! Non mi sembra che tu ti stia controllando! Billy, dovete restituirlo! Restituirlo? Non si restituisce un cane rapito! Va contro la logica stessa di un rapimento! Mani in alto! No! Ma un fucile! Non mi interessa! Ma non ha alcun senso! Peccato! Vado al lavoro! Sei arrabbiata con me, baby! Perché dovrei essere arrabbiata, Marty? Perché sei... Billy! Aspetti qualcuno, nonno? No! Ok, sembri normale! Vieni dentro! Dobbiamo nascondere questo cane, l'abbiamo rapito a un maniaco! Bravi! Mi piace! È profondo! E vai! Occhio per occhio lascerà il mondo cieco! No, invece! Rimarrà qualcuno con un occhio e basta! Altrimenti come farebbe un cieco a cavare un occhio all'ultimo uomo che ci è rimasto?